Ehi, chi sei? Perché? Non avete capire la portala, i bambini? Scusate, scusa! Vedi. Scusate! Ma devo sentire che è pericoloso qua. Stai facendo lasciare un errore. Vai! Fai fai. Tornato e pericoloso! Beh, devi sentire il po' soloso qua eh! c'è la stampa qui, vi puoi passare, stampa giornalista, puoi passare, grazie, organizzate di mezzo signori, perché non vi spostate di mezzo, non c'è spazio vai, perché non aprite ora ho capito perché non ce la fanno più la Formula 1 vieni con la bimba ma vedi si abisca le ore guarda la città c'è un primo per la sua passione e la città c'è un primo per la sua passione c'è un primo per la sua passione ma buttali là sto cancello cazzo andagli a qualcuno c'è la gente che sta male dai tumbe cazzo si ferma lì 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 non passa non chiamare nessuno non passa non si fa passare nessuno non passa no sbagliate non passa non passa apri 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 ى Oh, c'è che c'è lo scorrabbio. E chiama la polizia, chiama. Di nuovo muore, ma va di nuovo. Lo sapete o no? E' l'ora. C'è la gente che sta male giù. Perché non aprite? C'è gente che sta male? Si, nel tunnel, nel tunnel come fanno a uscire? Ma te lo capisci in casa? No! C'è efficienza! Apri! E apriamolo! La gente che simm Flying Bonde Fu gli britain fanno anche col Toll'unfali Soll'unfali Sone Buongiorno